Musica Con il disegno di legge del Rio sul riordino delle province in Lombardia rimarranno a scadenza solo quelle di Mantua e Pavia, Milano, Saracittà metropolitana, le altre assemblee di sindaci Mi sono grandi incognite sui tempi di realizzazione della città della salute a Sesto San Giovanni dopo il terremoto giudiziario che ha travolto infrastrutture lombarde Maxi a manco milionario nei conti della comunità ebraica di Milano il cui tesoriere è indagato per truffa dalla procura di Milano su denuncia della comunità tre giorni fa ha tentato il suicidio con il tubo del gas Inter in campo domani sera a Bologna per cercare il ritorno al successo il presidente Toiri, intervistato dai cronisti, ha confermato la sua fiducia in Walter Mazzarri Buonasera dal TGN e benvenuti a questa edizione del nostro notiziario dunque lo avete sentito dai titoli del sommario reazioni in Lombardia dopo l'approvazione del disegno di legge del Rio sul riordino delle province il 25 maggio non si voterà per il rinnovo delle cariche politiche negli enti insorge il centrodestra che parla di un pasticcio che renderà meno efficiente il governo dei territori come ci racconta nel servizio Massimo Scarinzi è polemica in Lombardia dopo l'approvazione del DDL del Rio che svuota di poteri le province la Camera ha approvato ieri la legge in attesa della riforma del titolo quinto che le eliminerà dalla Costituzione il 25 maggio si voterà solamente per le elezioni europee e per quei comuni che rinnoveranno le amministrazioni Brescia, Bergamo, Lecco, Sondrio e Cremona non rinnoveranno quindi le cariche politiche delle province e vanno ad aggiungersi a Varese, Como e Lodi già commissariate restano Pavia e Mantova fino alla scadenza naturale del mandato mentre Milano si trasformerà in città metropolitana un nuovo ente che accorperà tutti i comuni dell'Interland questo complicherà la vita? io temo di sì perché si sovrapporranno le province con le città metropolitane parliamo di Milano il DDL, la legge del Rio, chiamiamola così dice la provincia di Milano rimane fino al 31 dicembre almeno fino al 31 dicembre 2014 ma contemporaneamente parte la città metropolitana il personale pubblico resterà e sarà spostato all'interno di Regione Lombardia o nei comuni molte le voci contrarie nel centrodestra come quella del presidente della provincia di Sondrio Sertori che parla del DDL del Rio come di un atto sbagliato che abolisce il diritto di voto dei territori il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni invita tutti ad aspettare per verificare il vero risparmio che porterà il provvedimento ci sono incognite sui tempi di realizzazione della città della salute a Sesto San Giovanni la causa, il terremoto giudiziario che ha travolto infrastrutture lombarde Alberto Carreras i tempi si allungano e la realizzazione della città della salute viene considerata a rischio causa di tutto lo scandalo che ha travolto infrastrutture lombarde società della Regione Lombardia la commissione giudicatrice nominata per assegnare il progetto esecutivo della città della salute si è autosospesa dopo la raffica di arresti che ha travolto la società che si occupa degli appalti lombardi il presidente della Regione Roberto Maroni ha intenzionato a portare a termine l'importante progetto caldeggiato anche dal comune di Sesto San Giovanni ricordiamo infatti che la mega struttura sanitaria che unirà l'istituto neurologico Besta all'istituto nazionale dei tumori sorgerà sui terreni dismessi della FALC si tratterà di un complesso sanitario con 700 posti letto dal costo di 450 milioni di euro dei quali 330 a carico della Regione 80 dei privati e 40 del Ministero in pratica adesso dovrebbe essere nominata una nuova commissione che avrà il compito di affidare il progetto finale la fine dei lavori era prevista nei primi mesi del 2019 chissà se potrà essere mantenuta tra l'altro non sono ancora partiti i lavori per la bonifica dei terreni operazione particolarmente laboriosa e costosa come stazione appaltante per assegnare i lavori Palazzo Lombardia nel luglio del 2012 aveva nominato proprio infrastrutture lombarde adesso bisognerà in corsa modificare qualcosa altrimenti si rischia lo stallo e lo slittamento delle opere a tempo indeterminato oltre a questo alcune imprese che devono procedere alla bonifica dei terreni della ex FALC sono coinvolte nell'inchiesta della magistratura sulla bonifica dell'ex CISAS di Pioltello insomma una matassa che non sarà né facile né rapido di rimere multe per 110.000 euro 16 persone denunciate tre aziende sospese dall'attività commerciale il bilancio dei controlli eseguiti alla Fiera di Milano dove si sta allestendo il Salone Internazionale del Mobile dai carabinieri della Compagnia di Roda la Direzione Territoriale del Lavoro e del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Milano sono stati ispezionati quattro padiglioni e 27 aziende per un totale di 130 lavoratori identificati e controllati 16 dei quali scoperti a lavorare in nero tre aziende sono state sorprese condipendenti che non avevano alcun documento che ne attestasse con certezza l'occupazione regolare e pertanto sono state multate per oltre 8.000 euro ognuna e sospese dall'attività dei 16 denunciati 12 sono italiani e 4 stranieri l'ex tesoriere della Comunità Ebraica di Milano avrebbe sottratto dai 2 ai 5 milioni di euro dai bilanci sul caso indaga la Procura di Milano dopo la denuncia del Presidente Meg Naghi ore difficili per la Comunità Ebraica di Milano il Presidente Walker Meg Naghi ha presentato una denuncia in procura contro l'ex tesoriere Sergio Lainati l'uomo avrebbe distratto dai 2 ai 5 milioni di euro durante la sua attività al servizio della Comunità dal 1983 al 2013 licenziato lo scorso giugno per un taglio alle spese solo allora i vertici della Comunità hanno iniziato ad avere sospetti sulle attività di Lainati era considerato un uomo di fiducia e fin dopo il diploma aveva iniziato a lavorare negli uffici della Comunità diventando col tempo tesoriere nessuno poteva immaginare quale fosse la reale situazione dei bilanci fino allo scorso anno dopo il licenziamento e un'attenta attività di revisione dei conti è stato subito chiaro l'ammanco di denaro che ha fatto scattare la denuncia la Procura di Milano ha aperto un fascicolo d'inchiesta e ipotizza il reato di truffa del caso si occupa il PM Giordano Baggio tre giorni fa Lainati avrebbe tentato di uccidersi con il gas nell'ultima assemblea della Comunità Ebraica il Presidente Meg Naghi ha spiegato che attraverso un'attività subdola e ingannevole approfittando della buona fede sono stati sottratti milioni di euro per il momento nessuno vuole commentare l'indagine i vertici della comunità contattati preferiscono il massimo riservo sulla vicenda nessuno tra gli iscritti risulta comunque coinvolto nelle indagini della Procura di Milano si portarrà fino alle 22 di oggi proclamato dall'organizzazione sindacale Fast Consal al momento la circolazione sulle quattro linee di metropolitana Milano e sui mezzi di superficie regolare disagi in vista invece nel secondo weekend di aprile cioè settimana prossima per chi viaggia in treno contro il nuovo contratto di lavoro dei 4200 ferroviari di Trenord e contro il mancato rinnovo delle RS1 nonostante siano scadute da sette anni l'ORSA ha proclamato un'agitazione che fermerà i treni per 24 ore dalle 21 di sabato 12 aprile alla stessa ora di domenica 13 da domenica 6 aprile quindi da dopodomane cade il tabù che in Italia vietava l'assunzione di cittadini extracomunitari per guidare i mezzi pubblici autobus, tram o metropolitane che siano lo stabilisce un decreto il 40 del 2014 pubblicato in gazzetta ufficiale che recepisce una direttiva europea emanata tre anni fa il decreto che apre ai cittadini extracomunitari cancella un regio decreto che era datato 1931 due i casi in questione uno a Milano e l'altro a Torino polemiche sollevate da residenti e commercianti per l'apertura della nuova isola pedonale in piazza Costello a Milano prevista dal 1 maggio e i possibili ingorghi che si verranno a creare in Foro Bonaparte abbiamo intervistato l'assessore alla mobilità del comune di Milano Pierfrancesco Maran che ha sottolineato che l'amministrazione comunale valuterà eventuali aggiustamenti in corso d'opera vediamo il comune di Milano conferma che il primo maggio verrà inaugurata la nuova isola pedonale in piazza Castello 15.000 metri quadrati tra le vie Quintino, Sella e Minghetti comprese via Beltrami e via Ricasoli molte le polemiche tra residenti e commercianti sulla situazione viabilistica che si verrà a creare con la chiusura al traffico del viale a semicerchio davanti al castello e la conseguente deviazione su Foro Bonaparte l'allarme è stato lanciato anche dai tecnici dell'Agenzia della Mobilità che paventano il rischio di enormi code e caos in Foro Bonaparte soprattutto in direzione di via Cusani se chiudi da un lato è normale che dall'altro ci sia uno spostamento gli studi ci dicono che è una cosa sostenibile anche gli esempi di riduzione del traffico negli ultimi anni ci dicono che questo va nella direzione possibile pensate che dal varco di via Legnano solamente nel 2007 nell'ora di punta entravano 550 mezzi adesso ne entrano 280 quindi il traffico in meno di 10 anni si è dimezzato è una sperimentazione siamo convinti che ai milanesi piacerà scoprire Piazza Castello dal nuovo punto di vista se ci sono delle difficoltà e dei problemi li risolveremo stata facendo Palazzo Marino prevede un intervento in due tempi all'inizio nuova circolazione, paracarri di granito e nuova segnaletica e in un secondo tempo invece dopo l'estate un arredo urbano più curato con fioriere, panchine e chioschi poi via Sella diventerà senso unico in direzione di Foro Bonaparte da decidere se lungo Foro Bonaparte dovranno sparire o diminuire consistentemente i parcheggi ovviamente i residenti potranno raggiungere le proprie abitazioni attraverso i controviali l'intenzione è quella di far diventare Piazza Castello un luogo di incontri, eventi e manifestazioni culturali l'isola funziona se è vissuta, se è vivace, se gli eventi funzionano se diventa anche il luogo dove i milanesi vogliono passeggiare è un modo per i turisti di scoprire che non c'è solamente Duomo San Babila è una città che non solo vuole accogliere 20 milioni di visitatori per Expo bene ma vuole essere vivibile per il suo milione e mezzo di abitanti Un gruppo di antagonisti occupa uno stabile in un parco cittadino in associazione di mamme denuncia la situazione e il lassismo del comune con un video postato su Youtube, tube ballando, cantando e grazie a un disegno animato, quello che state vedendo è la singolare storia che emerge dal quartiere centrale di Milano nei pressi dell'antico parco delle Basiliche che oggi è stata postata appunto sul social network di fronte al parco un gruppo di giovani pancabestia ha occupato una scuola elementare pericolante destinata a diventare una dependance della scuola di ballo della Scala e ne ha fatto una discoteca e un ristorante un'attività economica ma del tutto abusiva allo stabile e pericolante non viene messo alcun scontrino tutto è in nero, la cucina del ristorante è immersa nella sporcizia vengono vendute alcolici ai minorenni dicono i protagonisti della protesta che risiedono nel quartiere si chiamano Irina, Svetlana, Giuliana e Monica le mamme del parco delle Basiliche che si battono perché la discoteca e il ristorante ZAM venga ispezionato e chiuso per evidenti irregolarità oggi pranzo al sacco per i bambini delle scuole milanesi per lo sciopero proclamato da CGL e CSA le motivazioni della protesta come afferma la CGL riguardano il fatto che Milano Ristorazione S.P.A. non ha mai voluto aprire il confronto sulle politiche occupazionali nonostante utilizzi da anni un numero di ore straordinarie che per il personale part-time non può superare anche quello delle ordinarie e contratti temporanei di allungamento dell'orario di lavoro senza aver condiviso alcun criterio è la prima volta che in 14 anni il personale di Milano Ristorazione decide lo sciopero per protestare contro l'organizzazione del lavoro dall'Europa una nuova normativa sui carburanti alternativi è stata presentata stamattina a Milano potrebbe avere ripercussioni particolarmente positive in Lombardia e soprattutto nell'area milanese una nuova normativa europea che punta sulla diffusione dei carburanti alternativi e quelli maggiormente rispettosi dell'ambiente è ormai pronta e prima dell'estate diventerà operativa l'annuncio è stato dato stamane al Palazzo delle Stelline di Milano in occasione di un incontro organizzato dall'Associazione Strade d'Europa il provvedimento è particolarmente importante per regioni quali la Lombardia e soprattutto per l'area omogenea di Milano tra le più inquinate del vecchio continente dove ormai è quotidiana la lotta contro le polveri sottili GPL, metano, energie elettriche e idrogeno sono i combustibili ritenuti attualmente i più interessanti la nuova normativa stabilisce che entro il 2020 dovrà esserci un punto di rifornimento elettrico ogni 10 veicoli immatricolati e un distributore di metano nelle aree urbane e suburbane ogni 150 chilometri i fondi arriveranno da Unione Europea, stati nazionali e privati in Lombardia ad esempio i distributori di metano e GPL erano 432 nel 2008 e oggi sono 543 con un incremento del 25% negli ultimi 5 anni Per l'Italia è sicuramente importante questa legislazione e so che anche la Lombardia per esempio sta promuovendo i carburanti alternativi se non erro il metano e il GPL in particolar modo quindi è sicuramente un settore strategico che permetterà quindi un trasporto più sostenibile è una cosa che serve anche a Milano pensiamo che solamente due giorni fa A2A ha detto che costruisce l'impianto del compost e l'impianto del compost produce carburanti meno inquinanti quindi stiamo contribuendo tutti a cercare un meccanismo per cui circolino un po' meno auto ma circolino anche con carburanti meno inquinanti e soprattutto per la mobilità urbana dotare la nostra città e in generale la nostra regione di un numero significativo di punti di ricarica per le auto elettriche dei punti di rifornimento per i veicoli che si alimentano con carburanti diversi dalla normale benzina dalla normale diesel quindi un'evoluzione molto importante che avrà i suoi effetti fra 18 mesi quando ci sarà la prima entrata in vigore effettiva di questa direttiva quindi vedremo presto una città più pulita con un trasporto più sostenibile Ancora cronaca due fratelli marocchini di 44 e 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Milano perché trovati in possesso di 160 kg di ascisce del valore di circa 280 mila euro erano stati arrestati già dieci anni fa in provincia di Bergamo con 80 kg di droga sono stati bloccati dai carabinieri della compagnia Duomo dopo un lungo appostamento davanti a via Pirandello dove i due avevano adibito un appartamento al primo piano a deposito per lo stupefacente alla vista dei militari hanno reagito con una breve collottazione ma quando hanno capito di non poter più scappare hanno fatto i complimenti ai carabinieri nell'appartamento c'erano due valigie contenenti 150 kg di ascisce 250 grammi di cocaina e 30 mila euro in contanti Inter in campo e parliamo ovviamente di sport domani sera a Bologna per cercare il ritorno al successo il presidente Toir è stato intervistato dai cronisti all'aeroporto di Linate e ha confermato la sua fiducia nell'allenatore Walter Mazzarri Eric Toir in difesa di Walter Mazzarri ha fiducia in lui altrimenti lo avrei già cacciato mesi fa così il presidente Nerazzurro all'arrivo a Linate sostiene il tecnico in vista di una gara quella di domani sera contro il Bologna a San Siro in cui conta solo vincere due punti nelle ultime tre partite e questo il bilancio della primavera Nerazzurra dopo il flop interno contro l'Atalanta e i due pareggi contro Udinese e Livorno sono girate tante voci su un possibile cambio sulla panchina Nerazzurra ma è stato Toir a sgomberare il campo dalle ipotesi per il momento blitz del presidente a Milano che ripartirà domenica sera contro il Bologna Mazzarri punta ancora sulla coppia Icardi-Palassio un solo gol in sei partite da titolare questo lo score del 21enne argentino chiamato ora alla prova del 9 a rischio Jonathan che dovrebbe essere sostituito da Nagatomo sulla destra con D'Ambrosio titolare a sinistra Campagnaro è tornato a lavorare con il gruppo Mazzarri soddisfatto per la difesa di Toir sa che senza qualificazioni in Europa difficilmente potrà resistere sulla panchina Nerazzurra anche il prossimo anno ed è pronto a giocarsi le sue ultime carte vado dritto per la mia strada che è quella della serietà del lavoro e di quello che ho sempre detto io dico che farò il possibile e l'impossibile per quanto riguardano le mie forze di portare questa squadra in questo campionato il più alto possibile l'ho sempre detto e lo continuo a dire e credo e ribadisco che in base a come finiremo sarà più facile programmare il futuro TGN sera termina qui vi ricordo che alle 19.40 circa andrà in onda Nova Stadio Sprint si parlerà ovviamente del prossimo turno di campionato alle 20.30 Adriana Santacroce e i suoi ospiti parleranno di attualità politica della riforme che sono in atto nel nostro paese in linea d'ombra per ora grazie alla cortese attenzione a tutti voi un buon proseguimento di serata e un buon weekend dal TGN Grazie a tutti